Beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio. Sono veri i pacifici coloro che in tutte le contrarietà che sopportano in questo mondo per l'amore del Signore nostro Gesù Cristo conservano la pace nell'anima e nel corpo. Io credo che questa ammunizione di Francesco, di frate Francesco, sui pacifici sia particolarmente importante in questo nostro mondo. Io vorrei partire dalle contrarietà. Quando noi abbiamo in mente le contrarietà pensiamo a qualcosa di molto grosso. Questo è vero. Ci sono grandi e gravi contrarietà a cui sono sottoposte tante popolazioni del mondo. Ma io direi che la nostra vita è una vita che ci contraria. È il quotidiano che ci contraria. La conflittualità continua con gli altri, dal parcheggio ai rapporti trascurati, dal traffico, dalla insoddisfazione nella vita. E' a salire questa conflittualità che nasce dalla contrarietà nella vita quotidiana. Che nasce nei rapporti fra le persone, con quelli che sono stranieri, o tra i paesi, o tra le civiltà e le religioni. Guardarsi con occhi contrari, non guardarsi con occhi amici. La contrarietà è qualcosa di cui è imbevuto il nostro piccolo quotidiano, i nostri rapporti, ma è anche qualcosa che tocca le culture, i paesi, le relazioni. La contrarietà. Io penso che rischiamo di soffocare di contrarietà. E la contrarietà è un terreno bruciante su cui si sviluppano i conflitti. E allora, beati pacifici, questa beatitudine che Francesco applica a quelli che vivono nelle contrarietà, non le evitano, ma passano attraverso il clima della contrarietà e le sopportano. E le sopportano non in maniera stoica, non in maniera disinteressata, non nell'indifferenza agli altri, non mi importa niente di te. Ma lo sopportano perché sono penetrati dall'amore del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore mi ama. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ci rivela il Padre ascolta le vostre preghiere perché il Padre stesso vi ama. Il Signore ci ama. Gesù ci ama. E allora attraverso le contrarietà e in un mondo di contrarietà conservano la pace nell'anima e nel corpo. Conservare la pace nelle contrarietà, questa è l'opera dei pacifici. E dice San Serafino di Sarof, conserva la pace in te stesso e migliaia attorno a te la troveranno. Un uomo, questo grande santo russo che è stato richiamato come simile a San Francesco, un uomo, una donna, un giovane, un anziano, pensiamo agli anziani negli istituti, pensiamo ai giovani, alla vita difficile con la pandemia, alle famiglie in difficoltà, tutti quelli che conservano la pace nella contrarietà perché sono consapevoli che Gesù li ama, costoro sono beati nel corpo e nell'anima. Nell'anima, sembra l'anima, il cuore è il luogo dove conservare la pace, ma anche il corpo, proprio perché la contrarietà stimola reazioni contrastanti. Noi viviamo non in maniera pensata, non sul lungo periodo, non con uno sguardo largo, ma viviamo di reazioni. La nostra società è una società di azioni e di reazioni, di contrarietà contro contrarietà. La pace spezza questa catena che ci lega alla superficialità, ma qualche volta che ci porta a fondo. Cari fratelli e care sorelle, cari amici, io vi mando il mio saluto, ma anche vi voglio dire che ciascuno di noi può molto, perché ciascuno di noi può cambiare il mondo cambiando se stesso e conservando la pace in se stesso e rendendo questo mondo pacifico. I pacifici non sono gli addormentati, ma i pacifici sono coloro che portano la pace perché vivono in pace e comunicano la pace anche in mezzo alle loro e alle altre contrarietà.